La famosa fashion blogger decide di prendersi una pausa e lascia un mondo a cui è fortemente legata, per ritrovare se stessa. Chiara Nasti dice basta ai social e si prende una pausa. Lei stessa, con un lungo messaggio su Instagram, fa sapere al pubblico che la segue di aver deciso di prendersi del tempo solo per se stessa. Un post inaspettato, arrivato in un momento particolare per la fashion blogger. Di recente non sono mancate polemiche e critiche nei suoi confronti, sui social appunto. Scendendo nel dettaglio, l'ultimo tatuaggio ha fatto parecchio discutere e forse questa per la Nasti è stata la goccia che ha fatto traboccare il vasto. Si è tatuata sul braccio il suo volto e, come lei stessa ha fatto notare, il web si è scatenato. Ed ecco che, a qualche giorno di distanza, Chiara decide di prendersi una pausa dai social, in quanto ne ha bisogno. Non nasconde che ama chi la supporta da sempre, ma ora ha intenzione di «dedicare del tempo a Chiara». Ammette che questa decisione è arrivata dopo qualche settimana di riflessione. Aveva, però, paura di deludere le persone che hanno sempre creduto in lei. È giunta poi a una conclusione, che le ha permesso di prendere questa decisione con più serenità. Se le mie decisioni a oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia. In questi anni non ho mai pensato al 100% a me. Ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo, come giusto che sia, tralasciando un po', me, sempre di più. Queste le parole di Chiara Nasti per spiegare il motivo per cui decide di prendersi questa pausa. Impossibile per i fan pensare che da ora non si sa fino a quando non vedranno nuove stories e post sul suo profilo Instagram, dove è da sempre molto attiva. Questa scelta, però, per lei sembra essere inevitabile. Ora che si è fermata un attimo è riuscita a comprendere un dettaglio importante. Grazie a tutti.